ragazzi ancora siamo fermi qua i legalini di Anna ma dobbiamo aprire il secondo scelto e di chi è? aspettate un secondo amore di chi è? di Deborah Falcetta questo è solo mio perché è solo tuo che cos'è? altre candele? no vabbè scendo e scendo apriamole scelto se mi stacco una luce ma i coltelli ce li abbiamo in questa casa si sporcono si consuma detersivo ma se ci staccano la luce visto gli aumenti della luce del gas che bella queste ora le mettono nello studio ma grazie ma finalmente l'abbiamo potuto aprire aspetta aspetta sapevo non era beva? meravigliose grazie grazie Deborah ormai ormai abbiamo una casa piena ma sono più piccoline però queste dell'altra belle così li puoi mettere tutte le piscine I love you Deborah love love grazie Deborah ragazzi sono meravigliose bellissime io le sto amando queste candele guardate le fantasie basta saluta saluta che ha mangiato a mangiare i canni di cinzia ora tra poco saluta ciao ciao ma che hai in bocca? un pezzettino di plastica ciao ciao la plastica questa no vabbè grazie Anna e grazie Deborah 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 falcetta nostra sono belle bellissime